La LUMSA è l'università che da più di 70 anni opera nel cuore di Roma, seconda per tradizione, soltanto la sapienza, tra gli atenei della capitale. L'enorme vantaggio di studiare al centro di Roma, di muoversi in un contesto culturale incomparabile per storie e prospettive, di avere tutti i servizi universitari concentrati in tre sedi poco distanti tra loro, sono solo alcuni dei punti di forza della LUMSA. Scegliere la LUMSA è scegliere un modello educativo valido, altamente formativo, pensato per i ruoli professionali richiesti oggi dalle aziende e dalla ricerca. L'ufficio orientamento costituisce il primo punto di contatto tra i giovani e la LUMSA e ti accompagna in tutte le fasi della vita universitaria, pronto a fornirti risposte e soluzioni. L'ambiente LUMSA è stimolante, i docenti sono disponibili al dialogo e all'approfondimento di tematiche, relative ai singoli insegnamenti. LUMSA significa scegliere un sistema formativo funzionale con un'esperienza consolidata. L'Ateneo è cresciuto su valori umanistici, ma presenta aree di studio orientate anche alla formazione, al diritto, alla comunicazione, all'economia e al marketing, con corsi di lauree a tutti i livelli previsti dal sistema universitario nazionale. Il modello LUMSA non è rimasto circoscritto a Roma. Sedi LUMSA con didattica decentrata operano anche a Palermo, Gubbio e Taranto. Le tasse di iscrizione alla LUMSA sono legate al reddito. Ci sono aiuti economici e borse di studio per contribuire alle spese per l'iscrizione annuale. La LUMSA mette a disposizione degli studenti un servizio per avere, in tempi brevi e a prezzi accessibili, una sistemazione adatta alle tue necessità. Quello che fa la differenza negli anni di formazione universitaria è la possibilità di effettuare periodi di studio all'estero per ampliare i propri orizzonti. La LUMSA è su livelli di eccellenza in questo campo, grazie anche a due riconoscimenti ottenuti in ambito europeo. I nostri studenti possono beneficiare dei numerosi accordi con università straniere per effettuare periodi di studio integrati nel curriculum personale. La LUMSA è una realtà in crescita che tende a accompagnarti nella tua crescita personale e professionale. Pensaci e se vuoi, contattaci! La LUMSA è una realtà in crescita che tende a comprare i nostri studenti un servizio per